Le due caratteristiche fondamentali sono il sapore particolarmente dolce e la tipica forma piatta. La cipolla rossa piatta di Pedaso è una delle specialità gastronomiche marchigiane. Inizia la sua storia nell'Ottocento quando veniva coltivata nei pressi del mare. Lungo la Battigia i cittadini di Pedaso bonificarono la spiaggia proprio per coltivarla. All'epoca veniva esportata fino al nord Europa, ricca di acqua e di sostanze nutritive. Rispetto ad altri tipi di cipolla dicono sia anche più digeribile. È una cipolla amata da tutti, sia dalle persone, dalle vergare come vengono appunto chiamate qui nella nostra zona, ma anche dagli chef stellati, chef di osterie, osterie slow food. È una cipolla che viene utilizzata un po' da tutti perché si sposa per tantissime preparazioni. Un'altra tante abbiamo scoperto grazie alle contadine e alle mogli dei contadini pedasini che la merenda tipica del contadino pedasino era il pane con la cipolla in agrodolce e l'alice sott'olio. Pescatori ma anche contadini. Sembra una cipolla come le altre ma grazie alle sue particolarità è diventata presidio slow food nel dicembre 2020. Dopo la scomparsa del prodotto per decenni, oggi un gruppo di giovani del posto, diventati agricoltori custodi, la preserva conservando i semi e garantendone la coltivazione nei terreni limitrofi a pedaso. Siamo quattro aziende che producono la cipolla e fanno parte del presidio slow food e quattro aziende che sono tutte attorno al comprensorio di pedaso. Questa cipolla cresce meglio in territori vicino al fiume, essendo un prodotto che ha bisogno di un terreno sabbioso. C'è una produzione totale che si aggira intorno ai 100 quintali, facendo una media totale delle aziende. Una coltivazione lenta che parte dalla semina autunnale e arriva alla raccolta nei mesi estivi. La cipolla richiede 12 ore di suolo ogni giorno per fare il bulbo. Questa è una cipolla longidiurna. Longidiurna vuol dire che è una cipolla che vuole 12 ore di luce per fare il bulbo. Quindi se viene piantata in un periodo invernale, difficilmente bulbificherà. Quindi si trapianta da febbraio in avanti e si raccoglie tra giugno, luglio ed agosto. Come state vedendo dalle immagini ora, stiamo effettuando la pratica della smannatura, che è una pratica che serve per far sì che piegando il gambo della cipolla, tutto il nutrimento presente nelle foglie viene immagazzinato dal bulbo. In questo modo lui riuscirà a mantenersi di più nel tempo, ma non arriverà mai oltre la seconda o terza settimana di dicembre.